Un piano per incrementare lo sviluppo del comparto aerospaziale campano. Del progetto se ne è parlato questa mattina nel corso di un tavolo di lavoro che si è svolto nella sede della Facoltà di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli. Il piano economico per lo sviluppo del comparto aerospaziale della Legione è stato presentato dalla Fondazione Mezzogiorno Tirrenico che si propone di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese operanti nel settore e di innovare tecnicamente il comparto. Al fine di garantire un proficuo sviluppo tecnologico del comparto aerospaziale campano che porti l'eccellenza tecnologica locale ad elevati livelli concorrenziali sul piano internazionale il piano prevede l'ideazione di un osservatorio permanente dell'aerospazio della Legione Campania e un impegno sinergico affinché le imprese campane possano ricevere incentivi tali da permettere un incisivo sviluppo nel settore dell'aerospazio.